Sì, siamo arrivati a 100 iscritti. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, sono troppo contento, finalmente ho raggiunto il mio traguardo, ma non quello finale, ma il traguardo che io voglio raggiungere davvero è i 1000 iscritti. Però mi avete fatto raggiungere questo traguardo dei 100. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo, esploreremo tante nuove avventure e anche andremo fuori in esplorazione. Ragazzi, grazie per i 100 iscritti, grazie mille a tutti. Beh, io vi saluto. Beh, ciao ragazzi!